Espro Mediaco Prostutino Musica Hello Muni Hello Bale, I'm doing fine. And what about you? To be honest, I'm very tired. I just came from the field. And do you know what? I love this area. Just look at the nature. I love this place so much. And this looks like a heaven. And look at the greenery. It really does hypnotize me. Oh my gosh, he's dead. Oh my gosh, are you fine? What's the problem? Do you have any problem? Are you okay? Oh my gosh, do you have any problem with English? Please, I'm going to tell you about the Nepali volume, Nepali volume. And I'm going to tell you about it. Hello Bale, I'm going to tell you about the last few years. I'm going to tell you about the English. I'm going to tell you about the English. è un'esmero. È un'esmero che ho fatto che i raggiungi sono stati di un'esmero di un'esmero. Ma quello che è stato fatto è un'esmero talento e cosa che hai raggiungo con voi? La tua raggiunga è un'esmero. Come voi avete un'esmero? Come voi state a dire il nostro amico? Quindi abbiamo un'esmero di un'esmero. Ci sono 18 membri in cui abbiamo un'esmero. and our family lives in Janakpur and all of my uncle lives in different places so one uncle lives in Janakpur and another one lives in Nepal Ganj and another lives in Viratnagar and my cousin's sister lives in Kosi Tappu Why are you even laughing father-in-law? You stupid! You don't even understand English and you're pretending like you know it. What the hell? Why are you laughing? I don't understand English. You know, I'm not sure how to learn English. You know, I'm not sure how to learn English. 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 I don't understand English. Why did you have to learn English? I'm not sure the English 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 language. I was working in Latin America as a pre-sשה. Now I'm sure you have to learn English. Non ci troviamo assi del video e di levare il video. Ma se si vuole un'idea, si vuole un'ecizza. Un'ecizza. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info No, non è una cosa che c'è. l'aggo outside ocean pressure jelly baby baby can't guess that got you got you toyota could have a no yes spirit malai man parecchio a co case a tahoe malai deluxe bahut man person the pilot has a side de l'acquantia mata bombarico behut bada fan ho asti macheli khai ko din dekhi nei wama le bahut man paretio Buongiorno a tutti i nostri spettatori, per favorevole, per favorevole, per favorevole, per favorevole. La mia amica è fatta, ma il mio amico è dolore. Il mio amico è il mio amico. Quanto a quell'alba di morire! Quanto a che di me acciclare a voi? Cosa dove è chiuso? I love your deadlock It is my badlock You don't have badlock You don't have badlock It's a beautiful day I love your love You don't have bad luck Il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è vero www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.